Garantisco la volontà mia del Consiglio regionale del Piemonte per trovare una soluzione alla questione degli operai forestali. Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, rivolte alla delegazione di forestali ricevuta il 31 gennaio a Palazzo Lascaris alla presenza di numerosi consiglieri. I forestali hanno protestato di fronte all'ingresso del Consiglio per la diminuzione dei fondi loro destinati, che quest'anno si riducono di 8,25 milioni. Se ne parlerà in giunta in Consiglio al più presto e si lavorerà in primis sul fronte dei finanziamenti europei disponibili, ha concluso l'assessore all'agricoltura Claudio Sacchetto.